Tu sei stata dura con te stessa e anche con gli altri e anche con me, però perché tu dici quello che pensi, quello che o è bianco o è nero e quindi va bene, però con le persone devi essere più morbida, devi aspettare un attimo perché le persone con cui parli hanno magari delle sofferenze o del dolore o hanno fatto qualcosa di sbagliato e quindi dire direttamente quello che pensi, e a parte che ti compromette il rapporto delle persone nuove, però… Non ti lasciare andare, non ti lasciare andare, continuo a credere in te stessa. Hai visto quanto è il percorso? Sto cercando di concentrarmi anche sul mio carattere per migliorare l'agio. Eh, hai visto, hai visto? Grazie.